Con un avviso pubblico oggi sono stati prorogati al 30 giugno prossimo i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse ad alienare compendi immobiliari localizzati nell'isola d'Ischia da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017 e dalla frana del 26 novembre 2022. La nuova scadenza è stata fissata con apposito decreto firmato dal commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini che fa seguito a quanto già disposto dall'ordinanza speciale numero 8 dello scorso 24 aprile. Al fine di consentire una più ampia adesione da parte di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di edifici o complessi immobiliari da destinare all'attuazione delle delocalizzazioni il commissario ha riaperto i termini fino alle ore 23 e 59 del 30 giugno 2024. Dopo le scadenze dei termini precedentemente fissati al 20 maggio 2023 e al 30 settembre 2023 sono pervenuti alla struttura commissariale complessivamente 15 proposte, tre delle quali non rispondono ai requisiti richiesti. Le manifestazioni di interesse già pervenute, quelle che perverranno, saranno oggetto di una valutazione estimativa da parte dell'Agenzia del Demanio per verificare la possibilità di acquisto. Le acquisizioni degli immobili da ristrutturare per essere destinati all'accessione in proprietà ai cittadini danneggiati che lo richiederanno saranno disposte sulla base delle prenotazioni che perverranno a seguito di un ulteriore avviso che sarà pubblicato nei